Così, perfetto. Ecco l'impadratura giusta. Mandiamo un'altra barca. Ok, Gus ha aperto il targhetto di stare pronti. Andiamo, portatelo fuori! Avanti, muovetevi! Allora? Io dovevo guidare l'autobus. Il problema è che non possono guidare la barca. Sono attori. Come facciamo a fermarlo? Ok, pronti ad entrare nel programma meteorologico. Allora, reggetevi forte. Ci siete? No, credo che circoscriveremo la tempesta sopra la barca. Le coordinate sono facili. Che farà? Non ci sono per dare il riservataggio. Avrà paura, tornerà indietro. Non so se funzionerà, ma io mi ci darei anche. Ecco, e tempesta fu. Andiamo! Qualche fulmine. Ancora. Ancora uno. Santo cielo, Christoph! Lo sta guardando il mondo intero. Non possiamo lasciarlo morire in diretta. Se è per questo è anche nato in diretta. Non c'è modo di farlo raggiunto. Scusami. Scusami, speriamo un momento qua. Scusami. 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 Coraggio, tieni duro, non mollare. Scusami. Che vuole fare? Bisogna dire rispettere. E questo è il massimo che sapete fare! Non mi rimane che uccidermi! Che il fine barbarina è ubriaco! Per il bene dello studio, interrompi la trasmissione. Che il fine barbarina è ubriaco! Alla mattina presto! Aumenta il vento. Che il fine barbarina è ubriaco! Aumenta il vento! Che il fine barbarina è ubriaco! Per l'ultima volta, interrompila! A che distanza è? Molto vicino. Ribaltalo, rovescia la barca! Maledizione, Cristo! Ma non farlo, si è legato la barca! Sta zitta! Non si salverà, si lascerà affogare. Fallo. No. Fallo! Alla mattina! Basta così. Alla mattina! Alla mattina! Alla mattina! Alla mattina! Alla mattina! Alla mattina! Massa e la mattina! Tutta dalla mattina le unità più isopi! No, no, no.